Abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo parlato ovviamente di delega fiscale in un momento in cui famiglie e imprese stanno giocando la sfida per il futuro del nostro paese. C'è bisogno di diminuire la pressione fiscale, di semplificare la vita di famiglie e di imprese e di mettere a disposizione strumenti e risorse perché la spina dorsale del paese, che sono le piccole, medie e grandi imprese, possa continuare a vincere anche la sfida di questa crisi che stiamo attraversando dovuta alla guerra. Mi sembra che il dialogo col governo sia anche tecnico a buon punto, continuiamo a lavorare su questa direzione.